Ci ritroviamo alle 2.09 Dopo il GR1, buonanotte sicura su Riso Radio, Alessandro De Gerardi, Sadelmo Savi alla parte tecnica, nessuna segnalazione relativa alla viabilità. Continuiamo invece a parlare di maltempo. Ci sono stati nella giornata di ieri i primi temporali sul Piemonte a causa dell'arrivo dalla Scandinavia di un'aria depressionaria, come previsto dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha emesso un'allerta gialla per le forti precipitazioni. Un ubifragio con pioggia mista a Grandine si è abbattuto sulla zona nord di Torino, dove non sono però stati segnalati particolari disagi. Il maltempo dall'alto Piemonte si sposta, oltre che su Torinese, su Vercellese, Biellese e Novarise, dalla notte anche su Basso Piemonte. Massime in discesa di 5-6 gradi, con le nuvole che nel corso di oggi dovrebbero però spostarsi verso sud. Allagamenti sono stati segnalati a Torino, in zona barriera di Milano e Regio Parco, grandinate a Volpiano e a Pino Torinese. Accompagnano i temporali forti raffiche di vento. Vi ricordo il 348 103 10 10 per i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Grazie a tutti!